Dopo tanti anni sono ancora qua ed è bello vedere come ogni anno è a sede e porta qualcosa di diverso ed emozionante. Siamo tornate da Izmir con una medaglia d'argento in tasca, siamo felici di questo risultato, però ogni anno è sempre più difficile metterci in gioco. Abbiamo ricominciato subito a preparare i nuovi esercizi che quest'anno saranno con i cinque nastri e i due cerchi e tre clavette. Le musiche sono molto emozionanti, anche gli esercizi sono bellissimi e speriamo di potervi stupire ancora una volta. Quest'anno è un anno impegnativo, ce la metteremo tutta, è l'anno delle qualificazioni olimpiche, quindi stiamo lavorando al massimo per portare a termine il nostro campo obiettivo. A questo punto non mi resta che dire in bocca al lupo a tutta. A questo punto non mi resta che dire in bocca al lupo a tutta.